Il nuovo progetto del gruppo ERA Digi e Lode con la collaborazione dei cittadini e delle famiglie mira adottare gli istituti scolastici di nuovi strumenti digitali, premiando con 100.000 euro le 40 scuole digitalmente più virtuose nei comuni in provincia di Bologna, Modena, Ferrara, Forlicesena, Ravenna e Rimini. L'obiettivo di questo progetto è mettere insieme i comportamenti digitali, di sviluppare la cultura digitale dei nostri clienti e utilizzare questo comportamento digitale per mettere delle risorse a disposizione delle scuole affinché possano investire queste risorse per sviluppare la cultura digitale dei ragazzi della scuola primaria e della secondaria di primo grado. È un progetto che ha l'obiettivo di coinvolgere i nostri clienti chiedendo loro non di comprare dei servizi ma di utilizzare meglio tutte le apparecchiature e le disponibilità di gestione digitale di questi servizi attraverso l'invio elettronico della bolletta, la domicilazione bancaria, l'utilizzo del sportello internet piuttosto che delle app che abbiamo messo a disposizione per gli smartphone per gestire i propri servizi. Il valore della digitalizzazione per la scuola è importantissimo perché le scuole in questi ultimi anni come il ministero sta cercando di fare si stanno attrezzando per funzionare da un punto di vista digitale in tutti gli aspetti non solo dal punto di vista didattico ma devono anche funzionare in modo digitale per quel che riguarda esempio il registro elettronico le famiglie stesse possono attraverso il registro elettronico perché hanno una loro password capire cosa ogni giorno i loro figli fanno a scuola